Il girone C di prima categoria riserva un finale di stagione da leccarsi baffi, nulla infatti è stato ancora deciso per i discorsi di vertice, con una stagione davvero avvincente che non ha mai avuto una vera dominatrice, ma tante squadre che nel susseguirsi della stagione si sono alternate in plancia di comando. All'atto conclusivo del campionato, Vis Pianella 90 e 2000 calcio acqua e sapone veleggiano a braccetto nelle vette più elevate, ma alle spalle con due lunghezze di ritardo il Torre Alex prova ad essere il terzo incomodo. La giornata conclusiva della stagione regolare propone la sfida tra Vis e Torre Alex e la posta in palio, come facilmente intuibile, non consente a nessuna delle due di affrontare la gara senza le giuste motivazioni. A Pianella si vede il pubblico delle grandi occasioni, ma non poteva essere altrimenti. L'undici del presidente Ferrone prende subito le misure agli avversari e piazza il colpo che stordisce gli ospiti sin dalle battute d'avvio e non infatti quando Di Julio griffa il vantaggio della Vis. Magistrale il calcio da fermo del numero 4 di casa che piazza il pallone nell'angolo dove stazionano le ragnatele. Giustificata l'euforia del pubblico pianellese. La squadra di Cepagatti cerca di scuotersi e riesce ad impensierire la retroguardia di casa con la battuta di Blasioli. Di Julio che guadagna la palma di migliore in campo per i suoi, centra al diciassettesimo l'incrocio dei pali con Di Giacomo che tira un grosso sospiro di sollievo per lo scampato pericolo. La contesa va temporaneamente in naftalina e si riaccende nella seconda parte. Al quattordicesimo d'archivio prova a mettere al sicuro il risultato ma spedisce a fil di palo. L'attaccante di casa ha miglior fortuna al ventitresimo quando riesce a mettere lo zampino per il raddoppio che di fatto archivia la pratica spingendo il pallone da due passi dopo l'ottimo suggerimento da parte di Fioralba. Il Torre Alex è ormai svuotato mentalmente e cede le armi agli avversari che al trentanovesimo arrotondano il vantaggio grazie ad un penalty concesso dall'ottimo di Martino Di Teramo che vede il fallo di mani in aria da parte di Sebastiani. Dal dischetto Di Julio batte Di Giacomo e festeggia la sua doppietta domenicale. Al triplice fischio la festa della Vis è contenuta visto che arriva la notizia del successo da parte dei rivali del 2000 a calcio che rimanda i discorsi promozioni alla vincente spareggio in campo neutro. Novantunesimo qui a Pianella la partita è finita il giudice insintacabile il campo ha deciso la Vis Pianella farà lo spareggio con l'Acqua e il Sapone che ha vinto per 3 a 1 mentre la Torre Alex farà i play off. Siamo con il patron della compagine il dottore Filippo Falcomio. Allora dottore comunque è stata una gran bella soddisfazione. Certamente per noi è già un grosso risultato essere arrivati ai play off e considerando che noi siamo una neopromossa perché veniamo da un campionato di seconda categoria ed è stata una bella soddisfazione perché nelle nostre previsioni non certamente c'era il risultato di arrivare nell'alta classifica. È ovvio che al fine campionato si notano anche le differenze con delle squadre che sono partite già con l'intento di arrivare a vincere il campionato tipo Vis Pianella, Acqua e Sapone, il Michetti. Noi naturalmente abbiamo impiantato una squadra sui giovani che sono l'espressione della nostra scuola calcio. Per noi è una grande soddisfazione in bocca al lupo al Vis Pianella per lo spareggio con l'Acqua e Sapone e speriamo che noi nei play off riusciamo a imporci e quindi ci ritroveremo nella promozione insieme a queste squadre. Perfetto, dottor, in bocca al lupo, resta qui con me. Allora, Alessandro Filippone, un ex giocatore che ha dato tantissimo alle sorti del Cepagatti giusto epilogo, spareggio fra Acqua e Sapone e Vis Pianella? Ma sicuramente, le due squadre che all'inizio erano partite per vincere il campionato, alla fine si giocano lo spareggio anche se il Cepagatti è stato in vetta dalla prima giornata fino alle ultime giornate e speriamo che nei play off possa far valere quello che vale. Mister Bianchi, una grande impresa, era nei programmi della società, obiettivo raggiunto benché ci sono questi spareggi ancora da fare, comunque il verdetto del campo è più che soddisfacente per la Vis Pianella. Guarda, io sono contentissimo del campionato che abbiamo fatto fino ad oggi. La squadra alla fine dei conti ha fatto prima in classifica. Voglio dedicare questa vittoria alla società, soprattutto al Presidente che è una persona eccezionale. E anche ai tifosi che erano numerosi? Senz'altro, per la prima volta qui a Pianella abbiamo visto le gradinate piene e questo mi ha veramente riempito d'orgoglio. Adesso dobbiamo affrontare questo spareggio, gli spareggi sono sempre difficili, ho un grande rispetto verso l'acqua e sapone però ce la giocheremo anche perché, se visto anche oggi, siamo in condizioni eccellenti. È giusto che si sia andato agli spareggi oppure ha qualcosa da recriminare perché magari... No, ma se le regole sono queste vanno accettate e non è che posso discutere o farmele io a piacere. Benissimo, giustamente, molto gentile. E niente, per il futuro Bianchi resterà alla vista. Ma adesso non dobbiamo parlare di queste cose, adesso dobbiamo concentrarci sulla partita di domenica. Il fatto che io resti o non resti è un fatto che non ha nessun significato. Anche perché era un discorso fatto in tre anni con la società, abbiamo anticipato i tempi, quindi stiamo avanti. Adesso ci siamo, ci crediamo, io ci credo tantissimo.